In questo momento sono estremamente emozionante. Dati di voi, o mai, ci sono passate in strano. Un po' di tempo fa, proprio scorso mese, abbiamo perso, necocemente, scomparsa, la nostra carissima collega, poetessa, amica, verseggiatrice, vera, serena. Stasera, qui con noi, c'è il suo fratello, che è un benvenuto. Quindi noi abbracciamo un pochissimo e ci uniamo al suo dolore. Prima di passare all'ufficiale, me dobbiamo essere. Vorrei dedicare a me, questa è una mia brevissima domenica. Non è una prevedere, è un pensiero, è un augurio di un viaggio. Alla viaggia a tutti. Non ti dirò addio, mentre varcherai l'ultimo ronfine navigando per sempre verso l'altrò. Non verserò lacrime colme di sale sul caldo incano del capezzale. Sarò un sorriso nelle tue pupille, un ultimo scatto della pellicola, portato appresso un dolce ricordo del breve passaggio su questa terra. Sussurrano soltanto. Buon viaggio, amica. Stai per raggiungere un mondo migliore. Speriamo che sia veramente così. Per questo ultimo viaggio, desideriamo donare il nostro caloroso abbraccio a tutta la famiglia. Il nostro pensiero è un battito del cuore, dedicando alla nostra amica stupanza, per la semina, per brevi memoria, a cura dei suoi migliori amici, Piera Saita e Luigi Maiori. Rappreviscate la presenza di Tania di Malta, Pana Poi, non ho chassi, la poesie, per l'anno le retta, sette semigiori problemi, sette rispostarabili, della serevna, da Piera Saita. Saita, di stare pari un giardbato, ti apprace moltissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i moriamo a tutti i nostri amici. E lo ho costruito. A te eslo la rappresa. C'è.